Buongiorno a tutti, oggi cominciamo a parlare di Filippo Juvarra, il grande architetto nato a Messina ma naturalizzato torinese che ha cambiato praticamente la fisionomia della città di Torino. Filippo Juvarra nasce appunto a Messina nel 1676 e morirà a Madrid nel 1736, le sue opere principali sono quasi tutte a Torino, Santa Cristina, la Basilica di Superga, Palazzo Madama, la Scala delle Forbici, la Regia di Venaria, in particolare la Grande Galleria e la Chiesa di Sant'Uberto, la Palazzina di Stupinigi, mentre l'ultima sua opera, solamente progettata, è il Palazzo Reale di Madrid. Le caratteristiche di Filippo Juvarra, che appartiene alla corrente Rococò, sono appunto una rielaborazione personale di tutto quello che è il repertorio dell'architettura, sia classica sia barocca. E quindi si situa in piena età Rococò, che sapete essere il proseguimento in chiave più leggera, più decorativa, più raffinata anche se vogliamo, del barocco e quello che poi sarà il neoclassicismo che si affermerà nella seconda metà del Settecento. Filippo Juvarra nasce, cioè nasce insomma, comincia la sua attività come scenografo e quindi gli rimarrà per tutta la vita questo gusto fantasioso, questa sensibilità per la plasmazione della materia, per il decorativismo molto accentuato, ma anche semplifica le forme così un po' ridondanti dell'architettura barocca, perché comunque la sua formazione è una formazione romana e quindi a Roma aveva appunto imparato e studiato molto bene il classicismo, quindi riesce a semplificare le sue forme e rendere le sue architetture ariose e leggere. Un altro aspetto importante di Filippo Juvarra è una sensibilità per il paesaggio. Le sue architetture sono sempre inserite perfettamente nell'ambiente e hanno sempre un equilibrio tra gli elementi funzionali e gli elementi decorativi. Ma è proprio questo aspetto paesaggistico, questa sensibilità, questo interesse per la dimensione da una parte paesaggistica ma anche urbanistica, che gli permettono di concepire le sue architetture come aperte, come delle vere e proprie macchine sceniche che si mettono in relazione con lo spazio circostante. D'altra parte Filippo Juvarra è un architetto che ha delle competenze tecniche molto molto approfondite e quindi progetterà sempre in maniera molto attenta e eserciterà un controllo ferreo sui cantieri. Dal punto di vista stilistico vi dicevo è un po' eclettico nel senso che fonde gli stimoli dell'architettura barocca di Borromini che ha studiato a Roma, di Guarini che approfondirà a Torino con il richiamo appunto all'architettura classica. È un architetto che ha una fama eccezionale perché è conosciuto a livello europeo, infatti si recherà anche in Portogallo, a Londra, poi a Madrid, sarà sempre aggiornato sulle novità francesi e appunto avrà questa dimensione internazionale. La vita è una vita abbastanza tranquilla diciamo nella sua evoluzione. Nasce nel 1776 a Messina, è figlio d'arte perché il padre era un orafo e un incisore e gli insegna appunto il disegno, il mestiere e poi si trasferisce a Roma dove continua la sua formazione con Carlo Fontana che è uno dei maggiori architetti eclettici molto colto del tempo tra il 1703 e il 1714. Studia, come abbiamo detto prima, attentamente le architetture classiche ma anche quelle barocche di Bernini, di Borromini nonché il Rinascimento, amava in particolare Michelangelo e poi lo vedremo appunto nella citazione ad esempio della Basilica di Superga. Siccome è in contatto con i cardinali e appunto i prelati più importanti di Roma lavora anche nelle zone di provenienza di questi papi e di questi cardinali, in particolare a Lucca. Si afferma come scenografo al servizio del cardinale Ottoboni e della regina di Polonia che lo proteggono e quindi lo inseriscono negli ambienti più importanti. Nel 1706 viene nominato accademico di San Luca che per Roma era un grandissimo onore e poi progetta appunto questa cappella Antamori nella chiesa di San Girolamo che vedete appunto nella illustrazione della diapositiva tra il 1708 e il 1712. Nel 1714 ritorna Messina e gli viene affidata l'organizzazione dei festeggiamenti per l'arrivo di Vittorio Amedeo II. Vittorio Amedeo II con il trattato di Utrecht era infatti diventato re di Sicilia. Vittorio Amedeo II era il sovrano di Torino, il sovrano Sabaudo. Sapete che poi Vittorio Amedeo II non è molto convinto della Sicilia, la scambia con la Sardegna e da allora in avanti il regno Sabaudo si chiamerà il regno di Sardegna. Ma mentre è appunto a Messina, mentre è in Sicilia conosce Filippo Iuvarra che era stato organizzato dei festeggiamenti e ne rimane talmente colpito che lo invita subito a Torino. A Torino Filippo Iuvarra riceve gli ordini, diventa abate, quindi come al solito ha una ricca prebenda e diventa anche il primo architetto civile della corte Sabauda. Infatti il posto era vacante, Michelangelo Garove era morto l'anno precedente e quindi bisognava sostituirlo. A Iuvarra Torino, che ormai è una capitale importante, diventata la capitale di un regno, ha una certa importanza a livello europeo, si sta espandendo e Vittorio Medeo II cerca di riorganizzare in termini molto moderni sia l'economia sia l'immagine della città. Torino proprio viene riorganizzata nella viabilità, nel decoro dei palazzi che devono essere omogenei come stile e come dimensione. E a Torino appunto Iuvarra rimedita la lezione di Guarini. Qui vediamo la Torino del tempo proprio, questa è una veduta dell'antico Ponte sul Po di Bernardo Bellotto, un vedutista chiamato appunto da Carlo Emanuele III a dipingere la città di Torino e si dice che la figura dell'abate che vedete in basso a sinistra, di cui ho messo anche un ingrandimento, sia proprio un omaggio a Iuvarra. Infatti se guardate è molto simile alla caricatura che avevate nella immagine della diapositiva precedente e vedete che appunto Filippo Iuvarra sta mostrando la città come dire ecco guardate che cosa ho fatto. Dicevo il primo architetto di corte ed ha un'autorità indiscussa, praticamente non si muove cantiere che Iuvarra non voglia, insomma come dice appunto la famosa frase di non si muove foglia che Dio non voglia. Collabora con Vittorio Amedeo II proprio alla rinascita politica e culturale della città e lui riesce a capire proprio quelle che sono le esigenze e appunto le mette in pratica. Purtroppo nel 1735 Filippo V in maniera impellente proprio e anche molto autoritaria lo vuole a Madrid per progettare e costruire il Palazzo Reale e Iuvarra non è molto contento, anzi è quasi disperato di dover andare a Madrid ma è obbligato, è obbligato e quando si trova a Madrid vive malissimo perché non lo pagano, si prende una polmonite, insomma si ammala e muore nel giro di poco tempo. Aveva chiesto di essere sepolto a Superga per testamento ma la sua richiesta ovviamente non viene esaudita perché trasportare un cadavere da Madrid a Torino non era così semplice e ancora adesso non si sa dove sia stato sepolto, a Madrid. È un disegnatore eccezionale, qui vedete il suo schizzo preliminare della palazzina di Stupinigi e a Torino pensate che si conservano 542 disegni in quattro album e sono conservati nel museo di Palazzo Madama. Questo è uno studio di architettura del 1706 e 1735 evidentemente la datazione non è troppo sicura e poi un altro aspetto importante appunto sempre nell'ambito della riorganizzazione di Vittorio Medeo II è il terzo ampliamento che avevamo già visto nelle lezioni precedenti che è collegato a Porta Susa quindi quella parte che voi vedete in blu è l'ampliamento di Juvarra che si collega ai quartieri militari e che prevede la costruzione anche della chiesa del Carmine. Una delle sue prime opere è la chiesa di Santa Cristina che è una delle due chiese gemelle che si affacciano sulla piazza San Carlo vedete che ha una facciata leggermente curva che viene conclusa da un timpano molto mosso che viene sorretto nella trabeazione da due colonne corinzie e che presenta al centro un rosone ellittico vedete come rispetto a quella che era l'architettura barocca molto plastica, molto dinamica, anche molto pesante qui c'è una maggiore leggerezza c'è una ricerca di simmetria tra la parte inferiore e la parte superiore e questa ariosità che appunto già prelude c'è già pienamente Rococò ma una delle sue opere più famose è sicuramente la Basilica di Superga che viene costruita come un ex voto nel 1706 Vittorio Amadeo II guarda dalla collina di Superga l'assedio a Torino delle truppe francesi insieme al cugine Eugenio di Savoia che era venuto in suo soccorso con le truppe asburgiche le truppe austriache e quindi fa un voto se fosse riuscito a ritornare in possesso della sua città avrebbe costruito una bellissima Basilica proprio in quel punto pregando davanti alla statua alla cappelletta della Madonna che si trovava lì a Superga e in effetti così fa costruisce addirittura un complesso architettonico con la Basilica e con un convento retrostante vedete come la Basilica di Superga fonde diversi tipologie diversi elementi stilistici è appunto un esempio di quell'eclettismo di Juvarra infatti vedete il pronao che riprende il panteo vedete la cupola che riprende la cupola di Michelangelo di San Pietro e i due campanili gemelli che riprendono invece la lezione di Borromini con quella parte superiore un po' orientaleggiante a cupola che peraltro poi verrà copiata in tantissimi campanili del nostro Piemonte la Basilica di Superga vedete che si erge su un alto piedistallo infatti è accessibile dalla parte anteriore da una grande scalinata ed è un'architettura e qui lo potete già vedere dalle varie fotografie che vengono presentate che cambia sempre a seconda della percezione perché a seconda del punto di vista può emergere il pronao con la scalinata possono emergere i due campanili oppure la cupola è una sorta di macchina scenica qui vedete la pianta la pianta completa con il convento retrostante e vedete come la pianta è una pianta centrale circolare con un pronao antistante e un presbiterio molto profondo che già viene inglobato nella struttura del convento che si articola intorno ad un cortile rettangolare questo è il pronao naturalmente una citazione del panteo alto, maestoso, a pianta quadrata con otto colonne lisce con capitello corinzio vedete che le colonne oltretutto hanno l'intercolumnio più largo nella parte centrale questa idea della cupola che viene affiancata da due campanili laterali è sicuramente ripresa da Sant'Agnesi Nagone del Borromini che qui vedete appunto nella fotografia la basilica appunto si erge su un alto basamento viene scandita vedete da delle paraste che non sono molto plastiche ma ad ordine gigante come dire ritmano bene la superficie qui ci vedono già gli elementi che poi saranno caratteristici di tutta l'architettura di Yuvarra cioè l'alto basamento l'ordine gigante la parte superiore conclusa con una balaustra questo è l'interno molto arioso come potete vedere questa è la cupola che è costolonata su un alto tamburo scandito da otto alti finestroni centinati e da colonne binate a gettanti e riprende appunto in maniera un po' diversa ma l'idea della cupola di San Pietro è una macchina scenica perché vi dicevo a seconda del punto di vista si inserisce diversamente nell'ambiente qui vediamo il chiostro e qui vediamo la lapide del grande Torino perché come sapete tutti contro la parete del convento si schiantò l'aereo dei giocatori del Torino un'altra opera importantissima di Filippo Yuvarra è Palazzo Madama tra il 1718 e il 1721 è la residenza della madama reale la madama reale è la vedova del re cioè quindi del precedente re quindi la mamma del re in corso diciamo così Palazzo Reale era un cioè Palazzo Madama scusate Palazzo Madama era appunto situato su Piazza Castello a fianco di Palazzo Reale ed era un castello proprio un castello che era stato costruito nel 400 dagli Acaia e che aveva inglobato le torri della porta Fibellona cioè della torre della porta dell'antico castrum romano e che deve essere rinnovato deve essere rinnovato che cosa fa Yuvarra qui lo vedete benissimo il castello che ha solamente la facciata in origine avrebbe dovuto incapsulare tutto l'edificio ma come al solito erano mancati i fondi e quindi era rimasta soltanto la prima parte quella della facciata e del scalone d'ingresso infatti Napoleone ironizzava sempre un bel palazzo ma dov'è il palazzo nella idea dell'urbanistica barocca e anche rococò il palazzo fa da fondale a quello che era l'antico decumano della città romana cioè via Dora Grossa quella che adesso noi chiamiamo via Garibaldi palazzo madama riprende un po' l'idea vedete nella facciata di Versailles mentre lì vedete il ritratto di Maria Giovanna Battista di Nemur che era appunto la moglie di Carlo Emanuele II che era appunto la madama reale qui vedete la pianta di palazzo madama con in viola l'inserimento di Juvarra che praticamente va a collegarsi direttamente con il cortile interno del castello che era stato coperto nel Quattrocento e con la retrostante costruzione questa è la facciata e vediamola un po' nei particolari la facciata ha un piano terreno con un paramento a bugne su uno zoccolo di pietà grigia il primo piano al solito è scandito dalle paraste contro paraste in ordine gigante i capitelli sono compositi il coronamento a un cornicione aggettante concluso da una balaustra quindi tutti gli elementi che abbiamo già visto anche a Superga qui vediamo una fotografia insomma più ravvicinata guardate come il palazzo si apre verso la città queste grandi vetrate queste grandi aperture permettono proprio un legame diretto con la città e con la piazza qui notate un particolare decorativo con le armi del pilastro e la parte centrale con i tre portali e la parte superiore a vetrate questo è l'atrio ricordatevelo poi quando faremo faremo la reggia di caserta di Van Vitelli perché Van Vitelli si ispirerà proprio all'atrio di Palazzo Madama di Juvarra lo scalone scenografico maestoso costituito da due rampe contrapposte coperto da una volta botte cassettonata anche qui le finestrature rendono l'area molto ariosa qui di nuovo abbiamo altre fotografie dello scalone e poi invece ci spostiamo a Palazzo Reale Palazzo Reale all'interno di Palazzo Reale Juvarra progetta la scala delle forbici del 1721 che è una scala eccezionale dal punto di vista tecnico perché supera un dislivello di 10 metri ha una struttura tenaglia con la prima rampa appoggiata a terra le successive due appoggiate alle pareti e l'ultima aerea ecco vedete qui la parte centrale con le varie decorazioni erano gli ingressi agli appartamenti della coppia di Carlo Emanuele III con Anna e Anna Cristina di Baviera vedete l'ultima rampa è aerea e si chiama la scala delle forbici proprio perché ha questa decorazione con le forbici che tagliano le trecce e che serviva anche così a un modo un po' umoristico a tagliare le male lingue oppure ricordare la necessità di tagliare i contatti con il mondo quando si entrava nei propri appartamenti un'altra opera importantissima è Venaria Reale di cui Juvarra realizza la Galleria Grande la Chiesa di Sant'Uberto e poi l'ultima opera la Palazzina di Caccia di Stupinigi tra il 1729 e il 1733 Vittorio Medeo II decide di far costruire questa palazzina seguendo la moda francese la moda francese delle residenze estraurbane del ritorno alla natura di un ritrovo per la caccia quindi faceva un po' di tutto era una residenza reale era una residenza per gli ospiti aveva le scuderie e i servizi a questo corpo centrale altissimo ellittico che richiama la lezione di Palazzo Carignano di Guarini che serviva appunto ad ospitare il salone delle feste la cupola era poi ornata vedete da un cervo che ricordava la funzione della palazzina vedete che rinuncia al concetto tradizionale di facciata perché le facciate sono tutte snodate sfalsate in altezza ed in particolare seguono questa pianta a croce di Sant'Andrea il giardino del palazzo di Stupinigi è vastissimo in realtà è un vero e proprio parco d'altra parte serviva per la caccia e come la reggia di Venaria e altre residenze estraurbane fa parte della cosiddetta corona delle delizie che attualmente sono tutelate anche dall'UNESCO la pianta vi dicevo è a ferro di cavallo e prosegue a Tenaglia e qui sulla piantina vedete anche le varie destinazioni degli ambienti questo è il salone centrale con la pianta elittica e qui al centro vedete il cervo che è un'opera di Francesco Ladatte che adesso è stato sostituito da una coppia e custodito all'interno delle scuderie questo grande salone delle feste è luminosissimo perché di nuovo siamo nell'ambito di queste residenze in cui è importante anche la connessione con l'esterno è un esempio di quella che è la vita settecentesca con questi ambienti decoratissimi questo ad esempio è il gabinetto cinese che appunto sappiamo essere una delle mode del tempo qui vedete l'inserimento della 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 palazzina all'interno della natura